Professore Massara, qual è la situazione che ha trovato in provincia di Savona quando è arrivato? Ci sono scuole che hanno chiuso, scuole che sono rimaste aperte, in futuro che cosa succederà? Guardi, quando sono arrivato, io sono arrivato il 2 di febbraio del 98, in effetti eravamo di già molto impegnati nella problematica della razionalizzazione della rete scolastica, quindi non è che abbia trovato un problema nuovo, ho trovato un problema che avevo già dovuto affrontare a Poldenone, a dove ero provveditore, e che si è riproposto a Savona, solo che nel frattempo hanno cambiato un po' le regole del gioco a livello normativo, nel senso che fino al 97, e allora ero ancora a Poldenone, la competenza di effettuare queste operazioni era del provveditore degli studi, che aveva soltanto da sentire il Consiglio Scolastico Provinciale, che poi esprimeva un parere obbligatorio e vincolante soltanto per ciò che riguardava le priorità, mentre invece a Savona nel 98 sono arrivato con una normativa diversa, in cui il provveditore partecipava comunque a questa operazione, ma il protagonista non era più il provveditore ma era l'ente locale, quindi diciamo si è proseguito in quell'operazione che era già iniziata, operazione che dovrà continuare, non è finita, non si sa.